E nessuna mozione di sfiducia coi 5 stelle irricevibile perché non sottoscritta dai due quinti dei consiglieri fa notare la Presidente dell'Assemblea Baglio. Ma i grillini lanciano la sfida mentre Casaleggio a Montecitorio fa il punto con il direttorio su Roma non ha dubbi vogliamo vincere. Mozione di sfiducia contro Marino anche con il Partito Democratico? Guardi il Partito Democratico e il Sindaco Marino giocano a poker sulla pelle dei cittadini romani. Prima di tutto invitiamo il Sindaco Marino a non ritirare le sue dimissioni. Se davvero dovesse farlo abbiamo già depositato mozione di sfiducia, invitiamo tutti i gruppi anche il Partito Democratico a sottoscriverla. Puntano al confronto in aula le altre forze politiche.